I parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle denunciano la carenza di medici nel reparto di cardiologia dell'ospedale Spocchi di Polistena e chiedono con urgenza l'assegnazione temporanea di almeno due medici e vista l'emergenza ed in attesa dei concorsi, l'accoglimento da parte dell'ASPE delle istanze di trattenimento in servizio. Audino, Misito, Rico, Melicchio, Scutellà, Tucci e Ferrara pongono l'attenzione sul reparto di cardiologia dell'ospedale Santa Maria degli Ungheresi che è in grande sofferenza per la più volte segnalata grave carenza di personale medico attualmente operante, accentuata da situazioni contingenti che vedono ulteriormente ridursi il personale medico in servizio, il numero di medici, 4 attualmente, è insufficiente ed i sanitari sono costretti a fare i salti mortali per poter garantire le prestazioni richieste e per coprire i regolari turni diurne e notturni. Secondo i parlamentari calabressi del Movimento 5 Stelle occorre agire subito. Alla reparto di cardiologia, scrivono Audino, Misito, Enrico, Melicchio, Scutellà, Tucci e Ferrara, servono e sono indispensabili subito almeno due medici a tempo determinato per tamponare. L'attuale carenza di personale, i medici nel territorio ci sono, se questi non vengono contrattualizzati, se non vengono espletati gli avvisi pubblici e banditi i concorsi, è evidente che ci sono delle responsabilità e potrebbe intervenire la Procura della Repubblica ad indagare la situazione insostenibile e richiede un intervento urgente ed improrogabile da parte dell'azienda sanitaria. Intanto le associazioni, aderenti a Progetto Città della Piana, hanno promosso per sabato mattina alle 9 un sitenne davanti all'ospedale Santa Maria degli Ungheresi.